Monte Cerignone si prepara a vivere una settimana da capitale al quadrato con il progetto 50x50 di Pesaro 2024 che dal 17 al 23 giugno vedrà l'affascinante Borgo presentare il loro programma dal titolo Rivelazioni culturali Monte Cerignone tesoro della natura. Sono sindaco da tre giorni appena e mi ritrovo già a rappresentare Monte Cerignone che sarà capitale della cultura per una settimana un evento fortemente voluto dal mio predecessore e anche amico, il precedente sindaco Carlo Chiarabini noi ci attendiamo di rendere visibile a tutta la provincia ma anche oltre la provincia il nostro paese il nostro paese che è un tesoro per quanto riguarda l'ambiente, uno scrigno di cultura ed è proprio della mescolanza tra l'ambiente e la cultura e il progetto che noi abbiamo proposto nell'adesione al Pesaro capitale della cultura 2024. Noi nelle nostre iniziative abbiamo cercato di coinvolgere la cittadinanza e le associazioni che il volontariato da noi è una percentuale molto alta, quindi ci hanno dato una mano ma abbiamo coinvolto anche gli artigiani e anche alcune eccellenze locali Torrefazione Pascucci che è una ditta a livello sopra nazionale ci organizza l'ultima serata dedicata al biologico in altre serate abbiamo una sfilata organizzata da una nostra artigiana Katia Rossi e poi abbiamo degli eventi di teatro e di musica. L'opportunità è grande, tra l'altro rientra in quello che è il nostro progetto di rendere appunto come detto prima visibile il nostro paese alla provincia ma anche oltre la provincia in modo da attirare sempre più visitatori e organizzare dopo il progetto 50x50 degli eventi importanti che possono attirare la gente e fargli anche tornare la voglia di tornare a visitarci. La decisione di promuovere la provincia anziché il comune con il progetto 50x50 ha reso Pesaro un esempio nazionale ed europeo sicuramente dunque tra le migliori scelte e iniziative realizzate e portate avanti per questo anno da capitale. Grande rivelazione per il territorio, una scoperta di tantissimi eventi, una progettualità diffusa un numero di iniziative che neanche potevamo immaginare vanno a costellare e arricchire in maniera anche dal punto di vista numerico della varietà del coinvolgimento di tutto il territorio questo anno straordinario di Pesaro capitale italiana della cultura. È un sistema unico che si integra tra il programma di Pesaro e il programma del territorio e dialoga con ogni comunità. All'interno delle comunità, le singole associazioni, le proloco tutte le attività che afferiscono alla cultura vengono sollecitate. In ogni comune abbiamo trovato la grande partecipazione come in questo caso specifico a Monte Cirignone di avere una grande partecipazione e un programma che tocca tutti i punti importanti di questo anno da capitale. Grazie a tutti.